Salve a tutti amici, in questo video parliamo delle differenze fra Office 2019 e Office 365. Allora, questo è Word del pacchetto Office 2019 e vi annuncio già che prossimamente farò tanti tutorial, prima un corso completo di base su Word, Excel e poi tanti piccoli video per spiegare come fare certi tipi di cose. Allora, innanzitutto, parliamo di Office 365. Che cos'è? Office 365 è un servizio di abbonamento mensile o annuale che garantisce di avere sempre le applicazioni di Office aggiornate, quindi non è un pacchetto che si compra una volta sola e poi se esce un altro aggiornamento bisogna pagare, quindi un'altra versione più aggiornata negli anni. È proprio un servizio di abbonamento. Un po' come la suite di Adobe Incredible Cloud, se qualcuno ce l'ha o la conosce. Quindi si paga mensilmente o annualmente per avere sempre tutto quanto aggiornato. In più, c'è uno spazio di archiviazione online e la funzione Cloud, che ci permette ad esempio di utilizzare internet per collaborare alla creazione o alla revisione di un file. Quindi Office 365 è sicuramente ottimo per chi collabora con aziende, altre persone, alla creazione o alla modifica di un file, soprattutto a distanza ovviamente. Quindi, in sostanza, il punto focale di Office 365 è il cloud. L'installazione può essere eseguita su tutti i dispositivi e si può accedere a 5 di questi contemporaneamente. Si ha infine un supporto tecnico incluso nell'abbonamento. Da sapere che la connessione a internet è necessaria per l'attivazione e l'installazione, dopodiché non è necessario essere connessi per utilizzare Office. Questa è una cosa molto importante. Questo che invece ho io è Office 2019, che si paga una volta sola, quindi quando usciranno versioni successive si dovrà pagare di nuovo se si vuole quella versione successiva, altrimenti si può restare tranquillamente con questa. E queste sono ovviamente le schede di Word 2019, questo invece è Excel. Quindi il tutto sta a capire di che cosa avete bisogno. Quindi fate le vostre valutazioni e poi, se siete interessati al pacchetto Office, decidete se comprarvi l'ultima versione di Office, che in questo caso è la 2019, oppure Office 365 per avere il servizio di abbonamento e avere sempre Office aggiornato. Un saluto a tutti.